Buongiorno a tutti ed eccoci qui in un nuovo video di Sipavoni ingrifati Torniamo nella nostra Lega Pocketube perché siamo davvero agli sgoccioli qui Secondo avversario e vediamo chi è Tanto c'è una musica iscrittamente famosa E Stephanie Allora Cosa cazzo facciamo? Proviamo un attacco normale E tu proviamo a avvelenarlo Magari uno di questi sono sicuro che si può avvelenare Proviamo l'Eggio Beh togliamo Ok avvelenato Avvelenato ragazzi Oh forse abbiamo trovato il punto debole Lui attacchi fisici e veleno quindi Siamo a posto No 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 aspettate Voglio curarmi Deve curarmi E tu Provi l'attacco fisico Ho visto che sei un coniglio di merda Ok Non ne facciamo un cazzo con il nostro compagno capobastone Quindi Proviamo a usare la magia Con una Con Scusate La confusione Spine instabile E falso J Falso J Ok Non ci fa troppo male Ma più umana Allora vabbè attacco fisico Però non ne facciamo un cazzo Morto Cazzo Fortissimi siamo stati qua Bravi Abbiamo usato Ho fatto la furbata di usare l'Eggio di nuovo Di provarci E lo abbiamo avvelenato Ma sì ma Cici poteva anche indebolirti un pochino Perfetto E il secondo è battuto ragazzi Si va al terzo Che abbiamo già incontrato durante il nostro cammino Per chi mi segue dall'inizio non penso in tanti Ma Per un magica persona che mi segue dall'inizio Si ricorderà questo personaggio qui Quindi andiamo a batterlo Sapevo che saresti arrivato fin qui Hai un potenziale enorme Ed è arrivato il momento di mostrarlo Appare il vostro caro Non so cosa soffra però lui Non penso che soffra il veleno Ci proviamo ma Allora Fai di lezzo Ho lezzo Ho lezzo Allora proviamo A paralizzarlo La sua ascesa nel mondo dei pannolini Che sta potenziando E noi dobbiamo approfittarne Oddio 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 È fortissimo Proviamo allora Pixelmon Abbassiamo l'attacco magico Anche Tu Rallentano un attimo E tu vai di falso Jay Ok 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 ti sveglia su pavoni e tu invece puoi attaccare adesso falso jay ma no non li faccio niente ok perfetto quindi tu vai di progetti whisky pavoni e tu invece prova a assorbire punti vita e tu falso jay ancora 26 abbiamo tolto e 84 madonna 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 allora ritorno del coniglio lentezza explorer e proviamo attacchi i pigliaccio ma schivato maledetto dobbiamo abbassare agilità assolutamente abbassiamo ancora perché vedo che gli attacchi fisici o almeno il mio personaggio ho creato un personaggio molto forte su attacchi fisici quindi puntiamo su quello e visto che sei un coniglio di merda e basta devo provare le fosse santo madonna questa fa malissimo oh schivata perfetto è un combattimento lunghissimo ragazzi cazzo è morto capo bastone è morto capo bastone sveglia sul capo bastone 848 ho solto attenzione ma fa male facciamolo? cos'era? video improvvisato tu invece vai di spirito stabile 2 e tu pure no whisky madonna oggetti whisky pavoni oggetti sveglia capo bastone ci mettiamo due anni basta calculo ancora video improvvisato oggetti whisky capo bastone cosa faccio cosa faccio prendiamo scurità ma non posso ma non c'è ricarichiamo un po' di mana e tu vai di ho visto che sei un coniglio di merda l'abbiamo acceccato mi sembra ma questo chi cazzo è? video improvvisato ancora che sta funzionando oscurità oggetti vino rosso su capello 695 non è male non è male allora prendiamo un doppio attacco se riusciamo a colpirlo e tu sempre oscurità e tu invece fai oggetti bottiglia d'acqua no non bottiglia d'acqua è acqua di pinetto tutta come lo so e per un po' di mana e non ci credo e non ci credo ok non ci ha fatto molto torrente magico fase j dai dai che ora è più scarso sembrerebbe attacco oscurità falso j falso j dai 822 e 1520 4 polpi buono buono sta per morire dai oscurità non c'è più energia allora oggetti acqua di rubinetto e arriviamo sì morto sì che è morto oh madonna vitamina c l'ho sempre saputo ora è giunto il momento per te di concludere il tuo viaggio e diventare più grande pochettube di tutta Italia siamo pronti ragazzi ad affrontare l'ultimo avversario probabilmente di questa liga pocket ovviamente avrete già capito chi è non è difficile capirlo si può andare qua fortunatamente non si dovrebbe perfetto e quindi ragazzi ci vediamo per il prossimo episodio dove affronteremo questo ultimo fantomatico capo della liga pocket grazie a tutti alla prossima ciao 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 ciao